Emozionata come se fosse la prima volta, come se fosse il suo primo premio, occhi lucidi e due occhioni che scrutano, guardano con infinita meraviglia ciò che le sta accadendo intorno, un sorriso che sa di emozione e felicità per un riconoscimento che ha un sapore diverso, un peso maggiore, un significato più intimo, sì, perché il sigilo d'oro Maria Chiara Giannetta conferito ieri dal comune di San Dagata di Puglia insieme a tutta la sua comunità significa affetto, legami, significa casa. Qui a San Dagata di Puglia, infatti, Maria Chiara Giannetta ha le sue radici, questa è casa sua, qui vive la sua famiglia, i suoi genitori. A San Dagata di Puglia ci sono i suoi ricordi di infanzia e quelli legati ai suoi primi passi nel teatro. E' emozionato anche il sindaco di San Dagata, Pietro Bove, a che dire, dice, vedere il salto della nostra Mare Chiara dal palco del Teatro Comunale di San Dagata al palco del Festival di Sanremo è una sensazione straordinaria, ancor di più quando durante l'ultimo festival ha più volte accennato alle sue origini. Per me oggi è un grande onore attribuirle questo riconoscimento. La nostra conterranea si è distinta in un percorso artistico che è sotto gli occhi di tutti. Maria Chiara Giannetta, seppur giovanissima, infatti, si è distinta tra le tante interpretazioni del capitano dei Carabinieri Anna Olivieri nelle serie televisive andate in onda sul Re 1 di Donna Matteo, recitando al fianco gli attori di altissimo livello, quali Terence Hill, Nino Frassica, Raoul Bove, e poi nell'interpretazione di Blanca, che ritornerà a novembre con la seconda serie e che le valza il premio ai nastri d'argento. Ed intanto, in attesa di rivederla sullo schermo della TV Ammiraglia, ieri Maria Chiara Giannetta si è goduta l'amore della sua terra.